Quasi tutti a Budapest riconoscono il rumore del motore diesel e lo sbattere secco delle suoi porte metalliche. Domenica 20 novembre ci sono state le ultime corse degli Icarus perché l'azienda dei trasporti della capitale Maggiara ha ritirato il suo autobus blu dopo mezzo secolo di onorato servizio. La Icarus è un simbolo dell'Ungheria, era una delle fabbriche di autobus più grandi d'Europa. Esportavamo molto verso l'ex blocco orientale ma alla Russia non bastava ancora, racconta un ingegnere meccanico ungherese in pensione. La linea degli autobus progettata dal famoso Laszlo Finta fu concepita nel 1967. Finta ricevette diversi riconoscimenti internazionali. Ci sono stati anni in cui ne sono stati prodotti anche 13.000 di autobus così che hanno reso Icarus il quarto più grande produttore al mondo. Gli Icarus 286 potevano essere visti ovunque dagli Stati Uniti al Kazakhstan. Sono veicoli che hanno fatto la storia nonostante le loro spartane prestazioni.